Bene, buon pomeriggio, ben ritrovati. Dunque l'argomento della lezione di oggi è l'input-output visto dal C++ e cioè come si tramite C++ fanno fluire byte dalle periferiche di output verso la RAM e dalla RAM verso le periferiche di output. Poi vedremo anche come si fa a far fluire byte dalla RAM al disco fisso e dal disco fisso alla RAM. Fino adesso abbiamo parlato, abbiamo visto l'operatore di assegnamento. Che cosa fa l'operatore di assegnamento? È lo strumento da C per far fluire byte dai registri del microprocessore alla RAM e dalla RAM ai registri del microprocessore. Perché quando c'è una variabile che sta sulla destra, questo rappresenta l'indirizzo dove andare a leggere della RAM, dove andare a leggere i dati che poi dovranno essere messi da qualche parte e in quale parte nell'indirizzo della RAM che sta scritto a sinistra dell'operatore di assegnamento. Quindi l'operatore di assegnamento è quello che movimenta i byte fra la RAM e i registri del microprocessore. Invece adesso vediamo come si fanno fluire i byte dalla tastiera per capirci alla RAM e dalla RAM alla console al monitor di output del computer. Partiamo da lì, quindi parliamo dell'input-output. L'abbiamo già utilizzato gli operatori, però adesso dobbiamo cercare di capire un pochino meglio cosa sono e come lavorano. Ormai da vari anni la terminologia con cui si tratta questo argomento è consolidata. Si parla ormai da tanti anni di flussi di byte. Il termine flusso ricorda il fluire, per esempio, di un liquido dentro una condotta, un tubo. La metafora è buona perché quello che accade nel computer è che si instaura un fluire di byte. Il termine inglese con cui viene tradotto il termine flusso è stream e da questo deriva il nome della libreria fondamentale che utilizza il C++ per gestire questi flussi di dati, cioè IO-IO-stream. È un insieme IO-stream di funzioni di libreria molto complesse che semplificano ovviamente al programmatore il lavoro di immissione dati dalla tastiera e di visualizzazione di output sul monitor. Abbiamo già imparato a utilizzarli, gli operatori fondamentali del C++. Quello che stiamo vedendo adesso è C++. Il C++ ha semplificato rispetto al C l'argomento dell'input-output. L'operatore fondamentale che abbiamo già imparato a usare è questo qui, per quanto riguarda l'input, e questo qui per quanto riguarda l'output. Cioè la doppia parentesi angolare per quanto riguarda l'input, verso destra, e verso sinistra per quanto riguarda l'output. Si chiamano questi due operatori di rispettivamente estrazione, il primo, quello che legge dall'input, e inseritore, quello che manda sul canale di output. Cosa sono invece CIN e CAUT? Sono due oggetti, per dirla in C++, però ancora non abbiamo parlato delle classi e degli oggetti, e quindi questo termine ha un significato vuoto in questo momento per voi. Per il momento è corretto semplicemente pensarli per quello che l'acronimo in qualche maniera vuole ricordare. CIN sta per canale di input, channel of input, e CAUT sta per canale di output, channel of output. Perché canali? Canali perché i sistemi operativi moderni, ormai anche qui c'è una standardizzazione, gestiscono l'input-output facendo riferimento a tre canali di flusso di informazioni di byte standard, che sono il canale cosiddetto standard input, il canale standard output, e il canale standard error. Il canale standard input, quando si accende il computer, se non si è fatto niente di particolare, il sistema operativo lo associa alla tastiera, al device dispositivo tastiera. E la tastiera il canale di input, se non è stato rediretto da sistema operativo. Il canale di output, cioè lo standard output, viene associato nei sistemi operativi non grafici al monitor, nei sistemi operativi con interfaccia grafica ad un particolare terminale, che viene detto console, che nei sistemi operativi appunto che conosciamo noi lo potete vedere o non vedere, lo dovete, il terminale eventualmente far partire voi, che è una, sostanzialmente sarebbe a livello grafico quello che era il monitor una volta quando i sistemi operativi non erano grafici. E cioè, ti fa vedere un particolare monitor che è il monitor principale, quello su cui va a scrivere il sistema operativo. La cosiddetta console, anzi, per dirla tutta, console vorrebbe dire la coppia, tastiera e questo terminale. Lo standard error, invece, è un canale particolare che utilizza il sistema operativo per mandare messaggi di malfunzionamento. Normalmente lo standard error no, normalmente no, ma molte volte è rediretto sul standard output. Per cui, spesso, il sistema operativo quando c'è qualche cosa che non quadra, per esempio, un programma che ha fatto una divisione per zero, ne abbiamo parlato ieri, cosa che farebbe piantare e mandare in crash il programma, in questo caso il sistema operativo manderebbe un messaggio di errore, lo manda sullo standard error che molte volte è rediretto sullo standard output per cui si visualizza comunque il messaggio di errore sullo schermo. Questi tre canali in C++ sono chiamati, come abbiamo detto i primi due, CIN e CAUT, lo standard error viene chiamato canale di errore, CER, ma in realtà non viene mai quasi mai utilizzato ma potreste utilizzarlo come lo vediamo sarà chiaro anche dalla lezione di oggi. I flussi. Dicevo, in pratica questo fluire non è un fluire di bit ma è un fluire di byte e cioè i bit vengono come abbiamo ormai capito pacchettizzati a otto alla volta e fluiscono su questi canali uno dopo l'altro in maniera seriale. Ovviamente è una grande velocità questo dipende dall'hardware ovviamente. Non entriamo in questi dettagli. questi flussi sono gestiti dal sistema operativo per cui la libreria Iostream che usiamo noi in realtà non è che un'interfaccia fra il CPU e il sistema operativo perché è il sistema operativo che gestisce l'hardware. Quando farete l'anno prossimo credo o forse fra due anni i sistemi operativi uno e poi quando farete al quinto anno i sistemi operativi due vedrete un po' più nel dettaglio questi aspetti. Ad oggi noi dobbiamo solo imparare a utilizzarlo utilizzarla l'interfaccia cioè la libreria Iostream io quello che sto dicendo serve per dare un pochino il senso di quel che avviene ma non entro nel dettaglio perché non è compito di fondamenti informati che entrare nel dettaglio. però credo che non posso fare a meno di dire che questi flussi vengono gestiti dal sistema operativo facendo riferimento a dei puntatori a singoli byte che stanno fluendo e il sistema operativo mantiene un la prima volta che uso questo nome ma ci torneremo molte altre volte un buffer 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 di memoria per tenere questi dati questi byte cioè quando per esempio io premo dei noi premiamo dei tasti sulla tastiera computer acceso ovviamente e il sistema operativo è già partito in pratica ad ogni tasto che premo il device la tastiera il controllore della tastiera associa un byte e questo byte viene inviato al buffer di input gestito dal sistema operativo è una zona della RAM gestita dal sistema operativo in cui vengono accumulati questi byte nell'ordine in cui sono stati battuti i tasti per esempio qui è stato battuto quella maiuscola poi la N poi la C e qui ho fotografato un attimo in cui la già sta andando sulla CPU a quel punto il puntatore al buffer del sistema operativo rimane puntato sul successivo byte che sarà inviato sulla CPU subito dopo questi caratteri che stanno qui sul buffer di input del sistema operativo non vengono inviati alla CPU fin quando che normalmente a meno che qualcuno non ha cambiato questo sistema ma normalmente fino a quando che l'utente non batte invio quindi per esempio se io batto non so Aldo A-L-D-O A-L-D-O vengono inviati alla vanno sul buffer del sistema operativo ma non vengono inviati sulla CPU fin quando non si preme invio e quindi pensate che questo qui è il buffer del sistema operativo a un certo punto è stato premuto invio e questi uno dopo l'altro vanno verso la CPU vabbè adesso sto cercando di dare un pochino intuitivamente l'idea di quello che accade però ovviamente l'obiettivo lo ripeto è quello di imparare a farlo e quindi direi di non perdere altro tempo andiamo a vedere più da vicino e capire come funziona dal CPU più l'emissione di dati e l'estrazione di dati come funzionano dico subito che per questo corso che è incentrato su l'apprendimento dei fondamenti della programmazione quindi degli algoritmi e come in tutti i corsi introduttivi della programmazione si affronta l'input output dei dati in modalità cosiddetta a carattere e cioè i byte che entrano sono il risultato della battitura di tasti su una tastiera perché che altri dati potrebbero entrare e potrebbero entrare byte per esempio dalla dall'ingresso della scheda audio dalla scheda audio che digitalizza il segnale in ingresso analogico produce una sequenza di byte e questi byte le manda sulla RAM però quello è un altro modo di emissione dati quale altro modo e anche quando vado a scrivere dati sul monitor questi byte fluiranno sotto forma di carattere perché quale altro modo ci potrebbe essere ci potrebbe essere il modo grafico in cui sul monitor non ci va un carattere da essere scritto sul monitor ma ci va ad esempio l'istruzione per associare un certo colore a un certo pixel dello schermo e come nelle interfacce grafiche noi ci concentriamo solamente sul caso in cui l'input e l'output dei dati avviene per byte questo sarebbe inevitabile sempre per byte ma in un modo in modo che i byte vengono interpretati come caratteri sarà più chiaro fra un attimo qual è il motivo per cui si fa questo quindi sia in lettura che in scrittura i byte vengono interpretati come se fossero dei caratteri asci tanto per essere semplici a questo punto dobbiamo cercare di capire come i byte letti per esempio da tastiera partiamo dall'input vengono scritti sulla ram beh innanzitutto perché vengono scritti sulla ram bisogna che vi ricordate l'assembly bisogna aver riservato spazio sulla ram lato assembly si faceva in quella maniera ormai inutile che lo stiamo a ricordare lato c per far questo bisogna che definiamo una variabile in memoria qui in questo esempio io sto supponendo di immettere dati come carattere e allora la cosa più semplice che mi viene in mente di fare perché sto imparando è quello di riservare spazio in memoria definendo delle variabili di tipo carattere e allora che cosa faccio definisco due variabili x ed y di tipo char senza inizializzarle e quindi allocco semplicemente spazio in memoria sapete bene che è un byte per ciascuna una all'indirizzo x una all'indirizzo y e a questo punto sono pronto per fare eventualmente delle letture da tastiera ho detto che l'operatore che abbiamo usato fino adesso è l'operatore di estrazione l'estrattore e lo vedete lì sulla slide quando c'è scritto cin freccia destra freccia destra x punto e virgola che cosa succede in quel momento quando viene eseguita quell'istruzione succede che il primo il carattere puntato dal puntatore sul buffer di input viene spedito dalla in realtà sta già sulla ram perché ce l'ha messo il sistema operativo quindi il 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 flusso è già stato gestito dal sistema operativo il flusso dei byte dalla tastiera che li ha prodotti alla alla ram però stanno nel buffer del sistema operativo per cui quando viene eseguita questa istruzione l'istruzione l'istruzione questa qui quando viene eseguita il come sapete il computer si ferma e aspetta che accada qualche cosa da tastiera l'utente comincia a battere qualche cosa e poi questa attività che sta facendo viene memorizzata sul buffer del sistema operativo e quindi i byte sono già fluidi sulla ram quando preme invio i byte che stanno nel buffer del sistema operativo vengono inviati alla destinazione prevista da questo software qui nel caso di questa istruzione supponiamo che c'è quella istruzione lì cin x mi capite no? e che io ho battuto aldo e poi invio cosa succede? succede che questo operatore qui l'estrattore è stato implementato nella libreria Ustream come una funzione che numero uno si accorge che la variabile alla sua destra è di tipo carattere e quindi occupa un byte solo accortosi di questo predispone affinché un solo byte dal buffer di input venga trasferito all'indirizzo x della ram perché un solo byte perché x è di tipo char e quindi può occupare può ospitare un solo byte e quindi un solo carattere viene trasferito se io ho battuto a l d o invio la a va a finire sulla x l d o rimangono sul buffer del sistema operativo di input questo perché è stato programmato in maniera smart l'operatore questo qui e quanto sia smart lo vedremo fra un attimo quando supporremo che la x invece che char è int o float detto questo detto cioè come funziona questo operatore di estrazione nel caso in cui si debba andare a mettere dati su una variabile tipo char vediamo quest'altro quello che vedete sotto cin.get aperta parentesi tonda y chiusa parentesi tonda lo debbo per forza introdurre adesso perché è un altro modo per fare l'immissione dati però ancora non ci avete la cultura per capire tutto in ogni caso ve lo dico che cos'è quello lì la get è una funzione cioè un metodo associato all'oggetto cin questo è terminologia sostanzialmente terminologia da object oriented programming che faremo l'ultima settimana di questo corso e questa funzione punto get prende come argomento una cosa sola il nome di una variabile che si suppone sia di tipo char infatti come vedete nell'esempio ho definito y di tipo char e a questo punto il nome di questa variabile y la passo come argomento alla funzione punto get associata all'oggetto cin perdonatemi se uso una terminologia semi incomprensibile per voi però questa è quella che dovrei proprio utilizzare quello che è importante adesso che io vi dica cosa succede quando parte quell'istruzione lì questo lo dovete capire cioè io devo dirvelo succede quasi la stessa cosa che succede nel caso dell'istruzione precedente e cioè un byte dal buffer di input fluisce e va a finire all'indirizzo y della ram se ho scritto aldo a era andata a finire dentro la x l va a finire dentro la y e c'è anche altre due ancora sempre una sola perché anche la get si rende conto che y è di un byte solo quindi un byte prende e quindi fa a questo punto la stessa cosa cioè potremmo dire che sono due modi diversi per fare esattamente la stessa cosa ma in una cosa si differenziano questi due metodi il primo quello dell'estrattore è stato programmato in maniera tale che salti gli spazi cioè se per esempio io scrivo aldo spazio franco e supponiamo che sono arrivato alla o il puntatore no supponiamo che il puntatore sta sullo spazio se parte cin frecce x lo spazio viene schippato e il byte spazio viene buttato perduto e non solo si comporta così con gli spazi ma si comporta così anche con i tab e con i line feed invece la cin.get qualunque sia il byte lo piglia e piglia quindi anche gli spazi e i tab tutto qui non ci sono altre differenze fra quei due metodi che vedete allora ho cercato di non so se ci sono riuscito di graficare se possibile il la differenza di comportamento di questi due metodi anche se non c'è bisogno perché credo che ci siamo capiti ma supponiamo ad esempio che appunto io ho queste due variabili x e y che nel momento in cui le ho definite staranno in memoria ma non sappiamo cosa c'è dentro non lo possiamo sapere perché non le abbiamo inizializzate possiamo solo ritenere che probabilmente ci saranno tutti zero ma attenzione se gli spazi della RAM erano stati utilizzati in un altro processo prima non è detto che siano tutti zero c'è un qualche cosa di casuale probabilmente zero comunque invece quello che vediamo qui a destra sarebbe la rappresentazione che ho cercato di mettere in grafica del buffer dei input del sistema operativo e lì ciò che ci trovo scritto che c'è stato battuto A, L poi due spazi e poi un M in quel momento il puntatore sta sulla A per cui quando viene eseguita l'istruzione CINX la A fluisce e va a finire dentro la X successivamente viene eseguita la CIN .get per cui il successivo carattere che sia una L credo va a finire sulla Y come ho detto prima poi supponiamo che accadano altre cose e attenzione dopo che la L è fluita sulla Y il puntatore del buffer di input si è spostato di un byte avanti e sta puntato in quel momento su uno spazio se riparte a un certo punto e ritorna del codice CIN freccia X dovrebbe essere lo spazio che va a finire sulla X sovrascrivendo il carattere A che c'era stato scritto prima ma poiché l'operatore di estrazione salta gli spazi il puntatore fa un salto avanti e trova un altro spazio e quindi fa un altro salto in avanti e in questo esempio che ho cercato di graficare due byte spazi verrebbero buttati via dopodiché il puntatore trova la M che non è uno spazio e dice ok questa la posso trasferire e la trasferisce sulla X e poi viene eseguita la CIN punto GET sulla Y il puntatore a quel punto starebbe su un altro spazio e quello però la CIN punto GET lo prende e lo scrive sulla Y quindi questi sono i due modi per leggere carattere per carattere dal buffer di input ora avete domande su questo? penso di no se state pensando non può essere che ho capito perché non può essere così semplice no avete capito è proprio semplice il discorso ok? a solito vi guardo per cercare di capire se se è ok questo adesso che cos'è quello quello lì freccia freccia a destra è un operatore l'estrattore è un operatore se è un operatore lui più i suoi due argomenti CIN e X insieme fanno un'espressione e le espressioni nella programmazione restituiscono sempre un valore col punto e virgola quell'espressione diventa un'istruzione fa qualcosa ma l'espressione in quanto tale restituisce un valore cioè potrebbe essere usata combinata come sottoespressione in altre espressioni per esempio io posso scrivere CIN estrattore X che sarebbe quindi un'espressione estrattore Y a questo punto CIN estrattore X sarebbe una sottoespressione dell'espressione CIN estrattore X estrattore Y che a sua volta è una sottoespressione di CIN estrattore X estrattore Y estrattore Z ponte e virgola diventa un'istruzione però abbiamo espressioni e sottoespressioni per capire come va interpretata questa sottoespressione questa espressione composta di sottoespressioni come abbiamo discusso ieri bisogna rifarsi alle precedenze degli operatori e all'associatività in questo caso solo all'associatività perché gli operatori sono tutti lo stesso operatore per cui avrà sicuramente la stessa precedenza in un'organizzazione della precedenza invece è importante l'associatività e l'altra cosa che è importante è capire cosa restituisce l'espressione CIN estrattore X X per dire una variabile allora l'espressione CIN estrazione X restituisce CIN cioè l'indirizzo dell'oggetto CIN e non posso essere più esplicito di così restituisce l'indirizzo dell'oggetto CIN cioè CIN estrattore X se c'è il punto e virgola fa tutto quello che abbiamo visto adesso sulla grafica dopodiché restituisce a chi a nessuno anche restituisce l'indirizzo CIN restituire vuol dire come l'espressione viene valutata che risultato restituisce inoltre l'estrattore è associativo a sinistra sapendo queste due cose che è associativo a sinistra e che restituisce CIN a questo punto facciamo l'analisi di quello che accade quando si incontra un'espressione di questo genere quello che accade è che viene prima valutata la sottoespressione più a sinistra CIN estrattore X la si esegue e l'espressione restituisce come risultato CIN a questo punto l'espressione diventa CIN estrattore Y estrattore Z come prima viene effettuata prima la sottoespressione viene valutata prima la sottoespressione di sinistra che quindi viene interpretata come un'istruzione viene eseguita quell'istruzione e quindi si prende un byte lo si mette in Y e il risultato sarà CIN a questo punto abbiamo finito l'ultima sottoespressione diventa CIN estrattore Z viene effettuata la stessa cosa viene messa su Z un byte poi c'è punto e virgola e finisce il discorso quindi noi possiamo mettere su una stessa riga di codice quanti operatori di estrazione vogliamo non c'è limite se non il limite dell'hardware ma non è un limite imposto dal linguaggio è un limite imposto come sempre ci sono tenete a mente queste cose che ci sono dei limiti logici imposti dal linguaggio altre cose che sono imposte dall'hardware che certe cose non le puoi fare perché non c'è l'hardware che ti supporta e normalmente in quei casi c'è un errore al runtime non da compilatore cioè se io ce ne metto 10.000 non lo so cosa succede non ci ho mai provato non è utile staccia a provare a farci ho detto che l'espressione cin estrattore x restituisce cin è vero ma è vero con una sola eccezione quando finisce il buffer il il flusso di input non il buffer di input che significa che finisce il flusso di input significa che a un certo punto l'utente decide che è ora di chiudere il rubinetto che dal canale di input non arriveranno più byte questo concetto sulla tastiera è un po' fastidioso sarà chiarissimo quando adesso passiamo a fare lo stesso discorso con i file da sistema operativo se noi premiamo sotto Linux Unix Control D o sotto Windows Control Z Control X Control Z Control D Control Z noi stiamo dicendo al programma che è in esecuzione in quel momento che il flusso di byte di input è terminato è una penna o una domanda? è una penna se il flusso è terminato e a un certo punto il codice esegue dopo che è terminato il flusso cin estrattore x non succede niente cioè nessun byte va a finire in x ma l'espressione restituisce false invece che cin restituisce il booleano di cui abbiamo parlato ieri false cioè restituisce il numero il numero zero quindi cin estrazione x normalmente quasi sempre restituisce cin a meno che il flusso non è terminato chiuso non c'è più nessun byte no non c'è nessun byte sul buffer di input perché se non ci fosse byte sul buffer di input semplicemente il programma si ferma e aspetta che l'utente lo ricarichi il buffer di input sto dicendo che l'utente ha detto che non verrà mai più un byte dal flusso di input ha premuto ctrl d o ctrl z in quel caso cin estrattore x restituisce false allora questo modo di fare spero che non vi sia in più complicato se questo è complicato quello del c era molto più complicato questo in realtà è veramente una maniera molto semplice di gestire il flusso dei dati in input perché perché i programmatori hanno associato all'operatore di estrattore e anche alla punto get in questo caso un'abilità veramente notevole per poterla capire guardiamo cosa succede nel caso in cui la variabile che abbiamo riservato in memoria per ospitare questi byte invece che di tipo jar che sarebbe lo stesso tipo dei byte che stanno fluendo perché vi ho detto che sono interpretati come caratteri la definiamo di tipo intero vedete lì ho definito x di tipo intero quindi sulla ram ci sono 4 byte all'indirizzo x che stanno lì aspettando che qualcuno ci metta dentro 32 bit che saranno interpretati come valori in complemento a 2 di un intero ma abbiamo detto che la tastiera produce solo byte associati ad asci quindi c'è ontologicamente proprio un abisso io produco io produco oggetti di una certa natura caratteri e di là devono andare a finire numeri in complemento a 2 c'è un abisso concettualmente e questo abisso il ponte su questo abisso è colmato dall'operatore di estrazione il quale è stato programmato in maniera molto smart cosa succede succede questo che quando viene eseguito cin estrattore x succede una cosa totalmente diversa da prima l'operatore estrattore è stato programmato e adesso non voglio dire termini che che vi confondono le idee però rimango nel generico è stato programmato in maniera tale da accorgersi del fatto che alla sua destra c'è una variabile x questa volta di tipo intero vedete quanto è importante il tipo della variabile il fatto che la variabile di tipo intero cambia il comportamento della funzione di fatto fa partire un'altra funzione cioè il simbolo estrattore quando c'ha sulla sua destra una variabile di tipo intero fa partire una funzione totalmente diversa dalla funzione che partiva quando alla sua destra c'era una variabile di tipo carattere che fa tutt'altre cose letteralmente e cose molto più complesse perché cosa fa beh innanzitutto questa funzione che parte adesso che non è quella che partiva prima si aspetta che dalla tastiera vengono battuti solo dieci tipi di asci lo zero l'uno il due fino al nove si arrabbia se premi a b si arrabbia pure se premi punto perché quello è un intero e negli interi i punti decimali non ci sono si arrabbia vuol dire cosa vuol dire si arrabbia finisce finisce di leggere ora prima di vedere il caso anomalo vediamo il caso normale il caso normale è che quando parte quell'istruzione il la situazione del buffer di input è quella rappresentata qui su questa grafica e cioè nel buffer di input è stato battuto è 6 1 9 punto 1 così è un esempio il puntatore al buffer di input sta sul lasci 6 attenzione non sono numeri sono asci lasci della cifra 6 lasci della cifra 1 e così via che cosa fa la funzione estrattore prende il byte del carattere asci 6 e dice ok questo è buono e automaticamente fa shiftare il puntatore al byte successivo dove trova l'asci dell'1 dice buono e va avanti prende l'asci di 9 buono va avanti trova il punto non buono si ferma si ferma quei 3 che sono fluidi nell'ordine 6 1 e 9 vengono gestiti dalla funzione estrattore che interpreta che fa queste cose vede che ne sono fluidi 3 e quindi capisce che il primo era relativo alle centinaia il secondo alle decine il terzo alle unità capisce che si tratta del numero 619 ne determina la rappresentazione in complemento a 2 su 32 bit e la va a scrivere dentro x questo è tutto quello che fa quest'altro estrattore è un estrattore diverso da prima il simbolo è lo stesso ma di fatto è un altro estrattore questo si chiama overloading di funzioni overloading ne parliamo alla fine del corso cioè quando due funzioni totalmente diverse hanno lo stesso nome come mai parte una parte l'altra perché c'è un trigger che è il tipo del dato della variabile che c'è alla sua destra che fa partire l'uno o l'altra questo che ho appena descritto è quello che accade se la variabile x è di tipo intero sarebbe accaduto lo stesso se al posto del punto ci fosse stato uno spazio o una una lettera dell'alfabeto o un qualunque altro hash che non fosse uno di quei dieci se per finire l'esempio io la variabile invece che di tipo intero l'ho definito di tipo float non lo dico più i, 3, i, 7, 5, 4 su 4 byte le cose sono ancora diverse cioè parte di nuovo un'altra funzione che non è nessuna di quelle due che abbiamo appena visto somiglia un po' a quella di prima ma è diversa perché con lo stesso esempio guardate come si comporta quest'altro estrattore è un estrattore diverso dovuto al fatto che la x è di tipo float e non di tipo int il 6 lo prende l'1 lo prende il 9 lo prende perché sono tutti buoni anche il punto è buono perché il punto fa parte della rappresentazione virgola mobile e quindi lo prende e va oltre prende anche l'1 successivo quando trova un secondo punto si ferma perché un punto va bene due no e quindi prende il numero 619.1 lo prende ma in realtà ancora lo deve generare perché dopo questo estrattore è totalmente diverso perché mi va a generare i 32 bit nell'altro modo di cui parlamo tre settimane fa nel modo che è totalmente diverso con un bit di segno con 8 bit per l'esponente e con 23 bit per la mantissa che non c'entra niente ma di niente di niente di niente col complemento a 2 tutta un'altra cosa ed è il terzo estrattore che stiamo a vedere con lo stesso simbolo tutto giocato sul fatto che la variabile è di tipo diverso quella che sulla RAM dovrà ospitare questi valori è chiaro? allora se è chiaro vediamo l'output ecco grazie no Cine.get non lo puoi utilizzare qui perché Cine.get è pensato per caratteri però guarda che ti ringrazio per la domanda perché ma anche a me mi era mai venuto in mente che era necessario effettivamente specificarlo questo grazie Cine.get prende un byte solo e lo suppone carattere grazie se non ci sono altre domande sull'input vediamo l'output ok allora qui stiamo a fare l'operazione inversa in un certo senso cioè dobbiamo prendere dei byte dalla RAM e mandarli fuori dal computer quello di prima invece prendeva dei byte dal mondo esterno e li metteva sulla RAM l'operatore qui c'è il segno opposto si chiama non estrattore ma si chiama inseritore inseritore perché prende dei byte dalla RAM e li va a inserire in un flusso il flusso di uscita allora questo flusso di uscita supponiamo che sia il monitor la console a caratteri un terminale a caratteri non grafico perché poi quando farete informatica multimediale imparerete anche anzi prima ancora perché lo imparerete perché vi divertirete a farlo col terminale grafico ci sono delle librerie complesse col C fantastiche per fare la grafica però ovviamente se ci mettiamo a lavorare su quelle non capiamo più i fondamenti della programmazione ci concentriamo sui fondamenti noi allora questo qui che deve fa deve visualizzare sullo schermo a carattere se il byte era un carattere se la cava facilmente se la variabile era di tipo carattere ma se la variabile era di tipo int o di tipo float deve fare la conversione opposta a quella che faceva quell'altro mi spiego se io ho int x uguale 3 vuol dire che in x c'è il 3 c'è tutti i zeri meno gli ultimi due che sono due uni asci ovviamente no quando arriva l'istruzione caut inseritore x quel numero che è un concetto deve essere scritto a schermo deve essere scritto a schermo mettendoci un disegnino che gli esseri umani interpretano come 3 quel disegnino è una mini bitmap nei schermi a caratteri che è sulla RAM e che viene disegnata in quel punto con quella dimensione stabilita da come è settata la console per significare il numero in questo caso 3 ma come ha fatto a capire che era 3 ovviamente quell'operatore di estrattore ha visto che la variabile a sua destra è tipo intero ha fatto partire una funzione che ha preso quei 32 bit l'ha interpretata in complemento a 2 ha capito che numero era e ha capito quanti asci doveva scrivere sullo schermo cioè quanti disegnini di asci doveva scrivere sullo schermo per rappresentare quel numero quindi una roba molto complessa è inutile che ci stiamo a girare attorno che noi ringraziamo ovviamente i programmatori di 50 anni fa e la usiamo è tutto trasparente a noi capite? tutto trasparente noi usiamo una funzione che fra l'altro è di notevole dimensione anche se la andiamo a vedere non ci interessa anche qui l'operatore di inserimento cioè l'inseritore si può comporre facendo un'espressione di più operatori in sequenza al solito come dobbiamo interpretarla come al solito come abbiamo visto poco fa dobbiamo capire l'associatività e cosa restituisce caout inseritore x caout inseritore x restituisce caout l'associatività è a sinistra pure per cui se io ho tutta una serie di inseritori su una linea su una stessa istruzione succederà qualche cosa come quello di prima cioè prima si valta la sott'espressione di sinistra e quindi si effettua quella mandata sull'output di quella variabile o di quell'espressione come vedete in questo esempio l'inseritore è anche più complesso perché ammette la possibilità che alla sua destra ci sia un'espressione aritmetica che può essere che a quel punto a causa del fatto che la precedenza dell'operatore è bassa prima viene valutata l'espressione aritmetica il risultato che ci avrà un certo tipo a seconda di com'è l'espressione per esempio x per x per x sarebbe x al cubo se x è di tipo intero anche questo sarà un tipo intero quindi quando arriverà la volta sua che sarà dopo uno due operazioni la terza operazione che cosa farà valuterà il risultato di questa espressione aritmetica sarà un numero tipo intero sarà fatta tutta la conversione di cui prima e sarà scritto sullo schermo il risultato di quell'espressione andiamo a fare l'anatomia siamo siamo ingegneri e le cose le vogliamo vedere ecco io dico sempre questa cosa però un po' mi diverto pure a dirla che altro dire qui vedete nell'espressione però ci sono anche degli asci ho l'asci vi ricordo che deve essere messo all'interno di una coppia di apici non di doppi apici mi raccomando fra un po' quando faremo le stringhe spiegherò la differenza quindi per esempio se io voglio il line feed lo devo riportare fra doppi apici cosa farebbe quell'istruzione quella istruzione stampa x che all'inizio è 3 e quindi stampa 3 dopodiché stampa line feed line feed sarebbe successiva riga e quindi dopo aver stampato 3 quello che accade è che su un terminale a caratteri il cursore che deve disegnare questi disegnini sul terminale a caratteri si porterebbe sulla riga successiva dopodiché dopo il line feed viene stampato x cubo x per x per x che sarebbe 27 e ho cercato qui di graficare quello che dovrebbe accadere su uno schermo a caratteri dovrebbe essere stampato il 2 sotto il 3 e poi il 7 nella colonna successiva poi questo esempio manda in stampa il carattere carriage return c'è il ritorno di carrello che sarebbe dovrebbe essere interpretato come il ritorno alla prima colonna del terminale a caratteri e quindi ecco quello che fa a questo punto però dopo che sei ritornato alla prima colonna se stampi in qualche cosa in questo caso 9 quello va a sovrascrivere quello che c'è nella prima colonna adesso questo è il modo di fare canonico in realtà i file normalmente sono fatti così e quando c'è il line feed c'è anche il carriage return in maniera tale da fare l'andata a capo e il ritorno alla prima colonna e anche quando c'è il carriage return c'è il line feed cioè normalmente vengono associati assieme per cui vengono eseguite tutte e due le cose per implementare un vero andata a capo cioè successiva riga prima colonna questo è il flusso di output e con queste istruzioni già si può lavorare anzi già stiamo lavorando quindi con l'input output le cose saranno un pochetto più complesse quando parleremo delle stringhe no più complesse più più facili e più potenti ma rimandiamo un attimo questo concetto perché per parlare delle stringhe dobbiamo parlare dei vettori poi ci ritorniamo quindi su questo argomento e vedremo come sarà ancora più facile con le stringhe mandare in output le informazioni e anche leggerle adesso parliamo ci avviciniamo al concetto di andare a leggere dal disco fisso e andare a scrivere sul disco fisso vi ricordate l'architettura di Von Neumann c'era le periferie di input e poi c'era la memoria di massa quindi stiamo per chiudere un po' il discorso andiamo a vedere come si vanno a prendere byte dal disco fisso per metterli sulla RAM e come si fanno fluire byte dalla RAM al disco fisso disco fisso per dire memoria di massa potrebbe anche essere un disco allo stato solido potrebbe anche essere altro questa slide l'ho inserita a forza non c'entra niente con il C parla del fatto che io potrei redirigere i flussi di input standard e il flusso di output standard anzi anche il flusso di error standard i canali chiedo scusa li posso redirigere perché come ho detto prima se accendo il computer l'input standard è associato alla tastiera ma io questo lo posso cambiare posso fare in maniera tale che i byte invece che da tastiera il mio programma li vado a leggere da un certo file sul disco fisso quando accendo il computer l'output standard è settato sul terminale io questo lo posso cambiare posso fare in maniera tale che il mio programma invece che scrivere sullo schermo vado a scrivere su un file queste operazioni si chiamano redirezioni dei flussi ma possono essere fatte da sistema operativo non c'entra niente con il C++ né col C né con nessun altro linguaggio è una tecnica di sistema operativo e come si fa? sia in Unix Linux che in DOS in DOS Windows l'operazione si fa mediante da console di sistema operativo si fa scrivendo quell'operatore lì la freccia la parentesi angolare che orientata verso sinistra serve per redirigere l'input standard orientata verso destra serve per redirigere l'output standard cioè mi spiego meglio supponiamo che io ho un programma che l'ho fatto ci ho messo C in Cout e l'ho compilato compila funziona legge i dati dalla tastiera e scrive sullo schermo tutto ok questo programma si chiama programma che legge da tastiera se io scrivo programma che legge da tastiera e batto invio parte il programma e fa le cose che deve fare ma se io invece scrivo programma che legge da tastiera freccia a sinistra parentesi angolare a sinistra e poi ci metto il nome di un file provate se avete Linux o Windows provatelo l'effetto è che i byte che dovrebbero essere letti da tastiera invece che essere letti da tastiera vengono letti da quel file nome di un file se c'è se non c'è dà errore ovviamente quel file per come ho scritto le cose il file nome di un file il file che si chiama nome di un file deve stare nella stessa cartella dove sta l'eseguibile l'eseguibile programma che legge da tastiera questa si chiama redirezione dell'input se io ci metto invece l'altra parentesi redirigo l'output se io scrivo programma che scrive su video freccia a destra parentesi a destra nome di un file tutto ciò che avrebbe prodotto in output su schermo il programma viene a essere scritto sul file nome di un file se non esisteva quel file nome di un file viene creato provate divertitevi se fate la stessa cosa che ho detto adesso con due frecce angolari quindi con un operatore che è lo stesso che dal C si chiama inseritore ma non c'entra niente niente di niente perché qua siamo a livello di sistema operativo l'effetto è che si va a scrivere sul file il nome di un file appendendo i byte alla fine di quel file quindi estendendolo ingrandendolo quel file invece quello di prima non l'avevo detto se il file il nome di un file c'era già viene cancellato e sovrascritto dal nuovo input questa redirezione la posso usare addirittura da sistema operativo non solo per leggere da file e scrivere su file ma addirittura la posso usare per leggere da device e mandare su un device se per esempio io faccio questo sotto linux io vado a leggere i dati i byte dal modem se questo è il nome del device modem se io ce l'avessi e se io ho una stampante collegata e ridirigo in questa maniera l'output del mio programma invece che vederlo sul video mi parte la stampante e mi stampa su carta quello che avrei dovuto vedere sul video questo non c'entra niente con il C perché ce l'ho messo per dire che in fondo il C adesso stiamo per vedere fa una cosa simile però è molto più potente perché questo modo di lavorare farebbe sì che tutto l'input viene letto dal file e tutto l'output viene mandato al file io invece a volte vorrei leggere qualcosa da tastiera qualcosa da file scrivere qualche cosa sul monitor e qualcos'altro sul disco fisso per far questo esiste una libreria in C++ che si chiama fstream per andare a leggere da file da C e andare a scrivere su file in C ++ dovete includere la libreria fstream e fare un'operazione che adesso è leggermente delicata per cui cerco di essere il più chiaro possibile dopo aver incluso quella libreria con l'include fstream per poter andare a leggere da file o a scrivere su file dovete per forza creare un un nuovo oggetto che di tipo fstream a cui dovete dare il nome e questo oggetto se lo volete figurare mentalmente pensate che sia un tubo per in acqua per dare acqua pippo è un nome che in questo esempio ho dato a questo tubo che sia un tubo lo si evince dal fatto che pippo è un oggetto di tipo fstream fstream significa tubo sto cercando di essere creato questo tubo e anche incidentalmente per farlo esempio adesso ho creato una variabile x tipo char il tubo è lì non si capisce cioè non è attaccato a nessun rubinetto adesso bisogna questo tubo lo vado ad attaccare a un rubinetto per andare a prendere dei byte che fuoriescono da questo rubinetto o lo devo attaccare a un recipiente per andare a versare dei byte dentro quel recipiente il modo che si usa ci sono vari modi per lavorare in cpp questo è il più semplice credo e noi quindi usiamo solo questo qui il modo più semplice che abbiamo per operare è quello di utilizzare due metodi associabili all'oggetto pippo il metodo open e il metodo close open serve per attaccare il tubo a un rubinetto ed aprire il rubinetto close serve per chiudere quel rubinetto e staccare il tubo da quel rubinetto vediamo fuori di metafora come si lavora e cosa succede se io voglio andare a leggere dati da un file dal mio programma debbo prendere il tubo che si chiama pippo scrivere punto open e a questo punto sto cominciando a usarlo e fra parentesi tonde metterci due argomenti il primo il nome del file da cui voglio andare a leggere i byte in questo caso l'ho chiamato mio file mettendo questo nome che è una stringa all'interno di una coppia di doppi apici perché le stringhe si mettono dentro coppie di doppi apici i singoli caratteri aspici dentro coppie di apici quindi mio file suppongo che sia un file che io ho già creato e dentro ci sia un po' di testo un po' di asci un po' anche tanti virgola il secondo argomento che vedete lì in rosso è uno specificatore d'accesso per quanto riguarda il metodo open e c'è scritto input output standard ios due punti due punti in che significa significa che sto usando questo tubo per prendere dei dati da un file cioè lo sto usando quel file come canale di input punto e virgola a questo punto io posso usare l'estrattore o anche la punto get qualora qui nell'esempio non ce l'ho messa però mi è venuto in mente adesso di farlo se x è di tipo char come in questo esempio io posso scrivere pipo estrattore x oppure posso scrivere pipo punto get fra parentesi x l'effetto è come abbiamo visto prima cioè tutto quello che accadeva con la tastiera adesso accade con quel file il discorso che abbiamo fatto prima lo applicate to cure proprio al file è il file che ha i byte non il buffer del sistema operativo e quindi ci fate quello che volete in questo caso un solo byte va a finire sulla variabile x perché devo fare un esempio lo devo chiudere chiudo il flusso con pipo punto close chiudo il rubinetto e stacco il tubo il tubo ritorna a star lì per terra se adesso devo andare a scrivere su un file riprendo magari quel medesimo tubo o io di tubi ne posso avere quanti ne voglio in questo esempio riprendo lo stesso che si chiama pipo di nuovo lo apro e lo attacco a un file che è sempre lo stesso in questo esempio il mio file però questa volta lo attacco con lo specificatore di modalità di apertura out ios due punti due punti out significato significato è che adesso gli operatori che usavo per mandare dei dati sul canale di output standard adesso invece manderanno i byte su quel file se il file non c'era viene creato se il file c'era già viene resettato e si ricomincia a scrivere dal primo byte del file terza ed ultima modalità è simile a quella precedente però c'è la combinazione di out e append qual è il significato il significato è che questa modalità di apertura di questo file mio file è associato al tubo pippo allo stream pippo per essere un po' meno l'effetto di questa apertura adesso è che i byte che eventualmente manderò sullo stream pippo andranno a finire sul file ma il file non sarà cancellato resettato e riscritto da zero ma i byte si andranno ad aggiungere dopo l'ultimo che già c'è e quindi il file aumenterà di dimensione grazie per la domanda la barra verticale serve per separare i vari indicatori ce ne sono altri che io qui non ho descritto perché sono un po' complessi poi in realtà ovviamente col c++ con la funzione SIC si può che ce l'ha anche il C si può anche andare a inserire byte in un particolare punto del file però adesso sono complicazioni diciamo che non mi vado a introdurre perché non sono essenziali al nostro corso ma ovviamente sul manuale del linguaggio C sui libri trovate queste cose bene l'argomento dell'input-output sia da periferiche di input-output sia da file da memoria di massa in modalità carattere è concluso non c'ho altro da dire e nient'altro vi serve per questo corso se non la parte delle stringhe che faremo fra un paio di settimane per cui se avete domande su questa parte voglio sperare che sia tutto chiaro però sinceramente mi risulta un po' difficile crederlo spero che invece non sia tutto confuso non avete proprie domande? tutto chiaro? voglio credervi allora adesso vado alla chiusura dando alcuni concetti importanti che fra l'altro mi danno occasione di dirvi che il linguaggio C++ come l'italiano e come tutte le lingue vive è in continua evoluzione un esempio che faccio da anni adesso quest'anno già non vale più allora adesso siccome c'è un quarto d'ora parto e vi faccio vedere di cosa sto parlando non faccio in tempo a cambiare la slide la volevo cambiare al volo ma non faccio in tempo lo faccio la settimana prossima perché ci ritorniamo su questi concetti ci siete? iniziamo a parlare adesso della visibilità degli identificatori cioè quando che io ho definito una variabile gli ho dato un certo nome dove la posso usare quella variabile? in quale parte del codice? in tutto il codice? in una sola parte? prima che l'avessi definita la potevo utilizzare? e lavoriamo su questi concetti altri file con cui sarà linkato il mio la vedranno? quella variabile? e tutto ciò che diciamo qui per le variabili lo potete replicare tranquillamente per le funzioni i nomi delle funzioni quando faremo le funzioni cioè stiamo a parlare dei blocchi e della visibilità degli identificatori per l'identificatore dovete intendere il nome di una variabile o il nome di una funzione gli identificatori saranno sempre indirizzi della RAM non lo dico più tanto l'avete capito per capire la visibilità di un identificatore bisogna fare riferimento al concetto di blocco il blocco è una sequenza di istruzioni compresa dentro una coppia di parentesi graffe il blocco non è altro che un modo per far diventare una sequenza di istruzioni che vengono eseguite nell'ordine in cui compaiono dall'alto verso il basso farlo diventare come se fosse un'istruzione sola un'istruzione che è composta da una sequenza di istruzioni il fatto che io metto un begin e un end per dirla alla pascala sono sempre innamorato del pascala è un modo per far sì che il tutto è come se diventasse una sola istruzione un blocco può contenere altri blocchi per esempio il main è una funzione lo capiremo meglio in là è un blocco infatti inizia il corpo del main inizia con una parentesi graffa aperta e finisce con una parentesi graffa chiusa dentro questo blocco del main ci possiamo mettere altri blocchi sarebbe un blocco dentro un altro blocco e dentro il blocco dentro ci posso mettere un altro blocco e questo concetto all'infinito blocchi dentro blocchi ci siete? finché? nella RAM dici? certo c'è sempre il limite dell'hardware ovviamente quando io dico infinito intendo dire cioè la fine è dettata sempre dall'hardware allora cosa succede? succede questo per quanto riguarda la visibilità degli identificatori guardate questo esempio qui c'è x intero uguale 22 poi inizia un blocco che inizia qui e finisce qui un sottoblocco del main e dentro questo sottoblocco questo programmatore perverso ha definito un'altra variabile dandogli lo stesso nome x di quella di prima che stava nel blocco più esterno si può fare lasciamola un attimo in sospeso la domanda poi fa qualche cosa con questa variabile e chiude questo sottoblocco poi fa qualche altra cosa sempre con la variabile x poi apre di nuovo un sottoblocco e di nuovo definisce ancora questo è veramente pervicace una variabile x dentro sottoblocco la usa di nuovo esce dal sottoblocco definisce di nuovo no usa di nuovo una variabile x come ho messo lì nel commento cosa succede succede che la variabile x definita dentro un sottoblocco mi maschera cioè mi impedisce dentro quel sottoblocco di vedere la variabile esterna al sottoblocco che ha il medesimo nome perché quali sono le regole le regole sono queste lo vedete un blocco io a un certo punto scrivo int x x da quel momento sarebbe una variabile sulla ram no? dentro quel blocco è visibile in tutto quel blocco? no è visibile solo dalla riga in cui l'ho definita fino alla parentesi graffa che chiude quel blocco prima che l'avevo definita nella riga di codice precedenti quella x non era visibile e quindi il compilatore ti dà errore se io ci metto un sottoblocco dopo che ho definito int x poi un sottoblocco x sarà visibile anche nel sottoblocco e anche nel sottoblocco del sottoblocco al solito infinito stante hardware a meno che come ha fatto questo programmatore qui dentro il sottoblocco vado a definire una variabile con il medesimo nome della variabile che stava fuori dal sottoblocco questo crea uno schermo perché nel sottoblocco dal momento in cui io definisco questa variabile quella esterna sarà invisibile poiché ce ne sono due di variabili che hanno lo stesso nome e vince quella interna quella esterna non la posso più nominare non la posso più trattare non la posso leggere non la posso scrivere quindi se per esempio questa c'aveva il valore 22 quando nel sottoblocco io la vado a stampare in output mi stampa non 22 ma 44 perché perché in realtà questo x è riferito alla x del suo sottoblocco non a quella esterna perché quella esterna non si può vedere quando arriva questa parentesi graffa qui si chiude il sottoblocco e se mando di nuovo mando in stampa la x questa volta la x a cui ci si riferisce è quella del blocco esterno e lo stesso anche dopo quindi le regole sono una variabile visibile in un blocco solo nel blocco in cui è definita primo dal momento in cui è definita in poi a meno che non ci sia un sottoblocco in cui si è definita una variabile con quello stesso nome perché in quel sottoblocco quella esterna non è visibile se io definisco un oggetto una variabile fuori dal blocco main in quale blocco l'ho definita in nessuno è fuori da tutto in questo caso quella variabile viene allocata nello spazio dati è una variabile globale è visibile da tutto il codice a meno che il main non la ridefinisca io per esempio scrivo io stream include poi int x poi int main int x la x fuori non è visibile dentro il main per la regola di cui prima allora a questo punto ci abbiamo dei problemi e i problemi sono come può un blocco senza necessità riferirsi a una variabile esterna al blocco qualora la variabile esterna fosse stata dentro il sottoblocco rinominata ho detto che non si può ma questo è un fastidio le cose più gravi sono e se io devo utilizzare una variabile di un altro file e dentro il mio main purtroppo ciò che quel nome è stato utilizzato per un'altra variabile io mi perdo la possibilità di poter utilizzare quella variabile globale perché il sottoblocco mio me l'ha oscurata per risolvere questi problemi vi lascio si utilizza un concetto del C++ che nel C non c'è che si chiama spazio dei nomi che è stato introdotto nel C++ e proprio in questi due anni anni fa è stato anche un po' cambiato e a questo punto non faccio in tempo a spiegare cosa sia dovrei parlare dei namespace e della direttiva using spiegare cosa sono i namespace come si utilizza quell'operatore che vedete lì di risoluzione dei nomi e a cosa serve la using però è troppo tardi e quindi vi saluto e vi do appuntamento a lunedì prossimo grazie a tutti